chi è? branco del team Brancogliuppi vai colpetto colpetto vai stricchebagliacche ecco Schinevisci che sta arrivando non uscire Harry Ercole Mazinga ha sbagliato non è Mazinga questo è l'uomo ragno vai colpetto e subito non tronco bastardo vai giù non c'è l'uomo ecco Mazinga ecco bravo bravissimo bello scintilla fai fuori da montagna ecco Mazinga ecco Mazinga dai dai una una mano in culo invece ti da giù dal viastro bendito e questa è la nostra banda e questa è la nostra banda